Pikachu V! Pikachu e Yui G! Ciao a tutti, siamo i Toroighe e anche oggi spacchetteremo insieme la nostra amica Jojo Allora Jojo, partiamo subito con lo spacchettamento, dai! Ok Jojo, fai vedere tutte le carte promozionali Questa è la Jumbo di Pikachu GX e ora vi faremo vedere tutte e quattro le promozionali che sono di Pikachu e Yui Vai sotto! Vai, mettile pure tutte qui, così, così le facciamo vedere tutte insieme Questa è di Pikachu GX uguale alla Jumbo, però piccola Esatto, che è una carta molto interessante, è vero? Adesso abbiamo quella di... La carta di Yui GX che è una carta... È un po' strana, vedete? Sì, ha un disegno un po' particolare, vero Jojo? Però ci piacciono questi disegni di Yui GX? Sì, certo! È un Yui un po' strano, sembra un Yui stanco Allora, tu vuoi Eclissi Cosmica o... Ok, sono tutte quale vuoi Ok, io prendo questa e questa allora, va bene? Va bene Oh, bello Snorlax Jojo, parto io così finisci te di chiudere i pacchetti? Sì, sì Allora andiamo avanti con lo spacchettamento E andremo subito con gioco di squadra Sole Luna Certo Allora, vediamo Attenzione perché abbiamo il primo codice Via Vieni qui dai, dimmi la carta energia che pensi che sia Io ti dico Cuoco E io Psico Psico Ah, Folletto Non mi manca Folletto, ma è mia? Eh, non lo so, dipende di chi è il box Ah, è mio? A seconda dei commenti che faranno i nostri telespettatori Chi riceverà più commenti Chi riceverà più commenti vincerà il box, va bene? Sico, però mi mancava quella Ponyta Mare Charmander Bellissimo Che porta a Charizard Esatto Uh, Torraca, Traverse Bellissima Zebstrica Niente male sto pacchettino, dai Io vado con sole e luna guardiani nascenti Ok, andiamo avanti con guardiani nascenti Oh, questa è stata facilissima da aprire, ho paura che non faccia nulla No, non è mica detto, non è mica detto Si può sempre trovare qualcosa, anche se i pacchetti sono facili da aprire, eh, ricordiamolo Vai, l'energia, erba Buio 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 Ok Acqua Arca miseria, non abbiamo vinto nessuno di noi due Allora, adesso ti faccio una challenge Se io trovo qualcosa qui, tu ti devi mangiare l'energia acqua Va bene, dai, se trovi qualcosa di raro Non è che te hai guardato già, eh, se hai fatto un po' la curva, vero? No, veramente Che vuoi far mangiare la carta No, no Sei sicura? Guarda che dopo chiedo il varo alla regia, eh Però se non, però se non, se non trovo niente, io mi devo mangiare Io mi devo mangiare questa Ok, va bene, facciamo così Allora, speriamo che non, che non trovi niente Io ho visto già uno sbrillucicchio Ecco, hai voluto fare, allora, voglio vedere il var dopo, eh, var, per favore Ok Ok, forse era questo Ok, mi dovevo mangiare Ai, ai, ai Ragazzi, mi devo mangiare questa carta La Josu si deve, si deve mangiare la carta acqua Ok, l'energia acqua, la Josu, adesso si fa vedere come si mangia Non mandarla giù, Josu No Buona? Non c'è niente Facciamo un'altra challenge Chi trova la carta più rara in questi due pacchetti Si tiene il, si tiene la carta, dai In che senso si tiene la carta in bocca? Ma se io trovo la carta più rara me la tengo Chi trova la carta più rara vince E vince i pacchetti l'uno dell'altro Va bene? Questa è il mio box, le decido io le challenge Questa adesso si ritiene che io e quella di prima la challenge Un'altra challenge uguale vogliamo fare? Si Quindi se trovo qualcosa di importante La mangi te Si Se non trovo niente la mangio io Si, esatto Va bene, facciamo così Eh, la challenge lei giustamente dice che il box è suo Io non è che posso Quando ho il tuo box tu decido la challenge Decido io, giusto Che conto È giusto, è giusto Allora, codice E andiamo avanti con il nostro trip Ma se tu non trovi niente io mi devo Energia Buio, buio Buio Acqua Buio Grande Jojoo 1-0 per te Andiamo avanti All'allestimento del professor Oc Piroar Ma se tu trovi qualcosa io devo mangiare tutto Se io trovo qualcosa devi mangiare te, sì Swirlix Grimer di Alola Snugma Chinchou Togge de Maru E Dragalge Ma sei sicura che vuoi che mangi la tua carta energia preferita? Forse meglio di no, eh No Il tuo ti puoi mangiare una carta diversa Ah, posso mangiare una carta diversa? Una carta diversa, scegli No, scegli te, dai, quella che ti piace meno Questo Allestimento del professor Oc Sì Buon appetito Speriamo di trovare qui dentro, almeno una carta rara Giusto? Sì Cioè Vogliamo fare un bel gott pack? Allora, uno io voglio trovare un gott pack Ma se lo trovo io non lo vedo Eh beh, ma se lo trovi è tuo, giustamente Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro Corice comunque qui Eh, non l'ho visto tutto, scusa Vai Energia Elettro Folletto 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 Fuoco Fuoco Ok, fuoco ci piace, fuoco Fuoco ci piace, vai Vieni un po' più in qua, giù Il fuoco di porta Vabbè, se c'è fuoco può venire pure ciali, guardo Sì, potrebbe venire Viene un po' più in qua, giù Ok Qui, ok Vai Teppi Sandro Snoran Coffee Uh, bella questa Cure nero reverse E Armaldo Devo mangiare qualcosa? No, non ti devi mangiare niente Non ti devi mangiare niente Adesso abbiamo un altro box Molto Molto Importante Esatto Che possiamo trovare tipo, non so Un Charizard Shiny Esatto La mia prima carta Shiny Siamo pronti? Lo apriamo? Sì Intanto noi dei Toroig Vi ricordiamo di iscrivervi al canale Attivare la campanella Mettere like e commentare sotto tutti i nostri video Per far sapere quale spacchettamento Avete scelto come vostro preferito E quale spacchettamento vorrete vedere poi in futuro Ok, andiamo pure avanti Fai vedere pure la carta personale Quanto c'è nero Ok, giralo Vai Questa è la carta promozionale Ok Di Pikachu Facciamola vedere anche di qua Questa è La facciamo vedere Sì, la facciamo vedere anche dalla parte di qua Ok, falla vedere bene qui Sì, perfetto È uguale a quella piccola ma grande Esattamente Ed è un po' più piccola rispetto alla GX Che cavolo? Solo un album a parte Pesca bustine Due bustine Due bustine Pesca Vado Vado? Prendo le due centrali io Tra l'altro c'è Charizard qui Eh no, non si cambia Non c'ho quelle che c'ho nel mio album Io non si cambiano queste Mi dispiace Parto sempre io Ma chi lo vuole cambiare? Eh ma qui c'è Charizard E allora? Sei sicuro di non voler cambiare Quindi non c'è Charizard? No Io mi tengo sempre le mie bustine Ok, va bene Parto sempre io Parti te questa volta? Parti tu Io voglio rimanere sempre per l'ultima Ok, va bene, va bene Dai, sono d'accordo con te È giusto che tu rimanga per ultimo Senti quanto sono morbide ste bustine Però noi Eh, non troviamo niente Questo dici te Noi siamo sempre lì Nella speranza di trovare un bellissimo Charizard Cioè, questi sono quelli che c'ho nell'album Vai Joe, l'energia Acqua Fuoco Eh, fuoco Che però di solito porta acqua Quindi Troveremo sicuramente un Charizard Attenzione Perché Andiamo forte Se porta l'acqua non Charizard è di acqua È uguale Noi troviamo sempre un Charizard È la nostra Oh Un Arc of the Shiny Un Arc of the Shiny Bellissima sta carta Hai detto che non mi portava E Nux Ray Olografico Va bene Ma noi la nostra Shiny l'abbiamo trovata Ed è bellissima tra l'altro Quanto è bella Oh, questo è bello duro Hai visto che portava il fuoco Portava l'acqua? Sì Hai visto cosa abbiamo trovato? Vai Vuoi una mano Sì, grazie Ok, dai Entro in gioco io Vai Finisci pure di aprirla Wow, ma bella quella carta Eh, Giugiu Le Shiny quanto sono belle Adesso dobbiamo solo trovare Una bella Shiny V-Max Quella di Quella di Ovviamente quella di Di Charizard Eh Noi cerchiamo sempre solo quella Perché il nostro Charizard è il nostro Pokémon preferito No, è vero, tu hai Gengar Giusto Allora possiamo trovare un Gengar Shiny? Beh, no, sarebbe il mio sogno Sarebbe il tuo sogno Dai, allora puntiamo a qualsiasi Non lo facciamo del gioco Ah, porca mia Va bene, lo facciamo alla prossima Vai, vai Vai, stai un po' più qua a destra Giugiu Viene un po' più qua Un po' più qua verso di me Ok, qui stai Perfetto Vai Nella speranza di Magari c'è un'altra Star Shiny Forza Poi Zarude Eh Oh, Gridant V Falla vedere, Giugiu Falla vedere qua Ok Questo box mi sta dando Tante soddisfazioni Tante soddisfazioni direi Eh Grandissimo box Perché per ora abbiamo trovato una Star Shiny E una V Che vi mostreremo qui sotto la camera Allora, Zuzio Vado avanti io Vado avanti E Ha la bustina di Charizard Shiny Esatto E adesso vi mostreremo Che all'interno Io, come ho detto Allo Zuzio Troveremo il nostro Charizard Shiny Eh, ma se non lo trovi? Se non lo trovo E Non lo so Vediamo Allora, facciamo così Se trovo una carta rara Me la tengo io Ok Va bene? No, no, no Va bene Eh, no Ormai quello che hai detto Hai detto No, no, non va bene Allora, vai Dimmi la L'energia Buio Buio Allora dico Foglia Cicco Attenzione Perché Ricordiamo che se trovo una carta rara Me la terrò io In collezione Quindi andiamo avanti Ballino Luxio Morpeco Koffing Rimanete sintonizzati, eh Sì Diamma Eh, sì Sì, sì Sì Rimaniamo sempre Grookey Wheezing di Galar E Se trovo qualcosa Rimani in collezione a me Sì Ah C'è qualcosa Lo sapevo Lo sapevo Adesso La mia Qualcosa Ed è Fossilia Distratis Ce l'hai È un po' distratta Sta fossilia Ce l'hai Non ce l'ho E la metterò in collezione Ma va bene Eh, mi dispiace Insomma Questa qui Dove vincerla io Sei rimasta male Sì Eh, queste sono le scommesse Le challenge che si fanno nei video Funziona così E purtroppo Non è Non si può Non si può tirare indietro Vai Però C'è una possibilità di vincere con la carta Se vuoi Se ne trovi un'altra rara all'interno Te le tieni tutte te Una più rara di quella? Una più rara o una simile? Mi basta anche se trovi una V Se trovi una V Te le tieni Sei magnanimo? Sono magnanimo Io te l'ho detto Sono molto più buona di Fenix Fenix È un burlone Sei pronta? Vai Gioco dell'energia Fuoco Acqua Buio Buio E dai Per una volta che non ho detto buio Ah Mi dispiace Ok Vai Eldegos Buizel Kufan Tacnea Cossifer Attenzione aspetta Vai Vai Niente Ah Vulcanion Mi dispiace Jojo Ma la carta me la tengo io Sì Festeggiamo Niente ragazzi Ragazze Speriamo che anche questo spacchettamento vi sia piaciuto Speriamo che la Jojo sia stata di Vostra compagnia Abbastanza Ti sei divertito Jojo? Sì Tantissimo Ti è dispiaceuto non aver perso questa bellissima carta? Sì Eh la prossima volta ti andrà meglio vedrai Ti andrà meglio Anche questo spacchettamento è andato e Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Mettete mi piace E commentate qua sotto E alla prossima dai Vostri toraghi di fiducia Ciao 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 Ciao